Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere la formula attraverso la quale potrete ottenere ricchezze inimmaginabili nella vostra vita. Si tratta di una formula data da Napoleon Hill nel suo libro Pensa ad arricchisci te stesso. Questo è uno dei libri più venduti nella storia dell'umanità, un libro che ha cambiato la vita di milioni di persone. Napoleon Hill ha scritto dopo essere stato in contatto per anni e dopo aver studiato per anni ed anni da vicino la vita delle persone più ricche degli Stati Uniti. Si tratta sostanzialmente di sei passi da avere chiaro in mente quando avete un qualsiasi desiderio, sogno o visione nella vostra vita. Cominciamo subito a spiegare questa formula. I sei passi verso l'accumulazione di grandi ricchezze. Bisogna innanzitutto essere chiari per quanto riguarda l'importo, sia quanto volete ottenere, quanto denaro volete avere. Bisogna determinare esattamente ciò che si intende dare in cambio di questo denaro, non solo a livello finanziario ma anche a livello di impegno. Stabilire una data precisa in cui si intende possedere tale importo. Creare un piano definito per realizzare il proprio desiderio e iniziare subito. Che tu sia pronto o meno a mettere questo piano in azione. Deve essere un piano che implichi un continuo movimento. Scrivere una dichiarazione chiara e precisa della somma di denaro che si intende acquisire in un foglio e conservarlo con cura nel proprio portafogli in modo da poterlo leggere continuamente. Indicare quindi il termine per la sua acquisizione, indicare cosa si intende dare in cambio del denaro e descrivere chiaramente il piano attraverso il quale si intende accumulare questo denaro. Ricordatevi che su questo pianeta non siete soli, ci sono molte persone bisognose e quando avrete le ricchezze che state chiedendo non dovete dimenticarvi di loro. Dovete già durante stabilire cosa darete in cambio per queste persone, ossia se volete ottenere x euro quanto siete disposti a dare in beneficenza. Dando si dimostra che siete in sintonia con le leggi dell'universo e che credete in queste leggi. In questo modo otterrete in cambio sempre di più. Ricordatevi che la beneficenza ci rende ricchi e non poveri come molti pensano perché otterremo molte volte di più di quanto abbiamo dato. Bisogna leggere la propria dichiarazione scritta ad alta voce almeno due volte al giorno, una volta prima di andare a dormire la notte e una volta dopo essersi svegliato la mattina. Quando si legge bisogna cercare di vedere e sentire e credere di essere già in possesso del denaro che si vuole avere in futuro. Mentre si seguono questi sei passi bisogna avere chiaro in mente alcune cose fondamentali. Prima di tutto per ottenere grandi ricchezze dovete avere un desiderio ardente dentro di voi, un desiderio che vi porti a volere con tutto il cuore la realizzazione di questo desiderio. Inoltre bisogna creare una fede talmente grande da farvi credere che la realizzazione di questo desiderio è sicura. Bisogna avere talmente fede da considerare questo desiderio come già esaudito. Visualizzare quindi se stessi già in possesso di quello che si vuole. Visualizzare la gioia, la felicità che si ha mentre si vede questo desiderio realizzato. Bisogna formare il vostro piano d'azione, il piano in cui ci sono tutti i passi che dovete fare per ottenere ciò che volete. Il piano deve essere in continua evoluzione, bisogna migliorarlo e svilupparlo in continuazione. deve trattarsi di un piano che implichi una continua azione e un continuo movimento verso il vostro obiettivo. È fondamentale essere persistenti e non arrendervi mai ma anche non demoralizzarvi, non perdere la fede e il desiderio ardo in nessun momento. Attraverso questa formula molte persone si sono arricchite fino a diventare i più ricchi degli Stati Uniti. Studiandoli, Napoleon Hill ha visto che loro hanno dei punti in comune che li vediamo in tutte le persone che hanno avuto grande successo nella loro vita. Spero che questa formula vi aiuti a realizzare i vostri desideri di ricchezza, ve lo auguro con tutto il cuore. Se vi interessa approfondire questi concetti e lo studio di Napoleon Hill in descrizione vi lascio anche i miei appunti riguardo il libro Pensa ed arricchisci te stesso del grande Napoleon. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi inviterei a lasciare l'iscrizione, a mettere un mi piace al video. Vi invito anche a seguirmi su Instagram dove carico spesso dei consigli e delle frasi interessanti che raccolgo dallo studio di questi manuali. Il link lo trovate in descrizione. Vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video.